Mancano pochi giorni, esattamente una decina alla Giosta del Saracino che è in programma il 5 settembre. Girando per presentare un po' l'evento, ma soprattutto la nostra diretta che partirà in interrotta praticamente da domenica con l'estrazione delle carriere, siamo venuti proprio qui dove si trova la mostra I colori della Giostra. Una mostra che è molto apprezzata in questi giorni dai visitatori, visitatori che affollano Arezzo. Intanto dobbiamo ricordare che le prenotazioni dei biglietti sono praticamente esaurite da ieri, i primi 200, in pochissimi minuti quindi questo è un segnale che la Giostra era davvero tanto attesa. Dicevamo poi degli step quelli più vicini, sabato presentazione della lancia alle 16.30 presso il Comune e poi successivamente domenica l'estrazione delle carriere. Un momento molto atteso perché si saprà come si svolgerà, in che ordine la sfida a Buratto in piazza. Intanto dicevamo un suggerimento è anche quello di apprezzare questa mostra che ha avuto il merito di tenere alta anche l'emozione della Giostra potendone apprezzare un po' un cammino, una storia, ma soprattutto proprio i colori di una manifestazione che fortunatamente torna ad essere protagonista in Piazza Grande.